Ok, Giovanni Dessi, presidente della Eden Santa Giusta, la Coppa Europa 2023 arriva in Sardegna, è un grande ritorno, perché? Perché nel 2009 fu disputata qui la prima edizione e quindi questa volta si ospitano però 25 squadre provenienti da 6 nazioni, che evento stiamo presentando? Stiamo presentando un evento grandissimo che speriamo, adesso ci possiamo solo augurare che vada oltre all'aspetto organizzativo, io preferirei anche un grande aspetto sportivo, quindi faremo di tutto per questa Coppa che è alle mie spalle, l'abbiamo vinta nel 2008, l'abbiamo vinta un'altra nel 2015, quindi io dico non c'è due senza tre, quindi speriamo bene. E' difficile, molto difficile, però dai, ci metteremo tutto al nostro impegno. Quali sono le squadre a livello tecnico più, diciamo, quotate per vincere una Coppa di questo tipo nel 2023 in questa edizione? Allora, in questa edizione le squadre, diciamo, le squadre francesi partono favorite, con il favore del pronostico, quindi sono mezzo gradino sopra gli altri. Noi ci giochiamo alla carta della nostra isola, quindi della nostra Sardegna, quindi cerchiamo qua di esprimere forse quel qualcosina in più che magari non avremmo espresso in terra straniera, quindi quel gap cerchiamo di recuperarlo in questo modo. Le gare dove si disputeranno e soprattutto dove si disputa la finalissima, le due finalissime? Ok, allora, si disputano tra Santa Giusta, il Palafra, Palatarros di Oristano e la finalissima, con tutte le finali terze e quarto posto maschili e femminili, al Palas Arrodia. Quindi un bellissimo impianto che cercheremo di quasi 4.000 posti. Speriamo di non di occuparlo tutto, ma almeno la metà, dai. Questo è il nostro augurio. E l'ingresso è ovviamente gratuito in tutti questi palazzetti? Assolutamente sì, è gratuito, quindi speriamo che la gente accorra. Noi faremo di tutto per farla divertire.